Sabato 20 ottobre, a Bologna, si è tenuta la festa conclusiva degli scambi e dei soggiorni di studi all'estero. Abbiamo intervistato alcuni ragazzi e accompagnatori che hanno partecipato a Giramondo 2018. Sono stata a Southampton. Siamo stati a Madstone. Sono stata a Winchester. Ho fatto il viaggio a Dublino. Siamo stati a Orsham. Siamo stati a Londra. Sono stata a Worcester. Siamo stati a Yveswitch. Sono stato a Maidstone, nel Kenti. Abbiamo apprezzato la cultura, diciamo ci è piaciuta molto l'Inghilterra. E niente, è stata un'attività che possiamo dire ci ha cambiato in meglio. Siamo divertiti un sacco tutti quanti. Abbiamo conosciuto un sacco di nuova gente in cui poi ci siamo ritrovati a Bologna. La fine è un'esperienza che mi ha letteralmente cambiata in meglio. Sono diventata molto più matura, sono cresciuta e mi sono fatta dei nuovi amici che alla fine non scorderò mai. Ho scoperto che gli irlandesi sono molto più simpatici degli inglesi. E niente, è stata una bella esperienza che consiglio a tutti di fare. Io mi sono divertito, è stata una bellissima esperienza. Avevo già fatto qualcosa di simile, non in famiglia. Ero andato in college. Sempre molto divertente, coinvolgente. Anche il fatto che si facciano un po' di lezione e invece nel resto del tempo ti diverti con amici o comunque stai nel posto un po' ti ambienti. Molto bello e coinvolgente. Consigliare a tutti, assolutamente. E lo consigliamo a tutti perché è un'esperienza comunque da fare per imparare l'inglese. E' anche molto divertente. Si fanno un sacco di attività, tra giochi, sport, tutti insieme. Comunque è un modo divertente per parlare in inglese. E' stata una bellissima esperienza. Abbiamo stretto anche un sacco di amicizia tra tutto il gruppo e siamo impartiti in sei e ci siamo allargati in molte più persone. Abbiamo conosciuto molte persone. E alla fine nessuno voleva tornare più a casa, infatti ci siamo anche messi a piangere in molti. I ragazzi a Southampton accompagno i ragazzi in questi soggiorno studio da tanti anni. Ritengo che sia un'esperienza importante per i ragazzi. Così non solo migliorano nella lingua, ma socializzano e si fanno anche nuovi amici. I soggiorni di studio all'estero, dal mio punto di vista, sono molto importanti per i ragazzi, soprattutto a quell'età, che possono confrontarsi con realtà differenti e questo li aiuta sicuramente a crescere dal punto di vista personale. Dal punto di vista della formazione è sicuramente utile perché insomma imparano un'altra lingua, almeno riescono un attimino ad approfondirla in un contesto tra l'altro informale, diciamo così. Quindi insomma secondo me è molto importante. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.